Ha dei compiti in materia di legalità importanti, anche se non quelli fondamentali che spettano invece al governo in materia di ordine pubblico. Ha una funzione di coordinamento, di sensibilizzazione e di raccordo anche con gli enti locali, promuovendo iniziative di sensibilizzazione della popolazione, individuando quali sono le paure e i timori della cittadinanza in modo tale da poter poi proporre dei temi di approfondimento alle istituzioni competenti. Quindi in questo caso alle forze dell'ordine e alle prefetture. Il tavolo della legalità, la regione lo ha già convocato per il 19 febbraio, è un tavolo istituzionale in cui saranno chiamati a partecipare anche tutte le rappresentanze del mondo economico perché la legalità ha una forte incidenza anche sulla produttività di una regione e quindi chiaramente è alla nostra attenzione. E poi cosa dire? Le scuole, i giovani, ognuno di noi con un esempio quotidiano, anche piccolo, può essere un punto di riferimento in tema di legalità e rispetto delle regole.